Benvenuti, nuova edizione del nostro telegiornale, grazie per aver scelto anche oggi l'informazione di nuova televisione. In apertura abbiamo la cronaca, ennesimo attentato incendiario nella notte e danni di un nightclub nella zona artigianale di Sia Maggiore. Per un imprenditore di Uras si tratta del terzo avvertimento in due anni. L'odore acre rende l'aria quasi irrespirabile. Per la terza volta in due anni il nightclub Coyote Ugly nella zona artigianale di Sia Maggiore è finito nelle mani degli attentatori. La banda del fuoco entra in azione intorno alle 2. Le fiamme avvolgono prima il quadro elettrico, poi il resto del locale. I danni sono ingenti. Il titolare Antonio Sideri, originario di Uras ma residente a Oristano, non ha dubbi e punta il dito sul mondo quello torbido fatto di ragazze drink dove la concorrenza è spietata. A quanto pare sì, non mi vogliono qua. Perché secondo lei? Non te lo so dire, non lo so davvero. È tutta colpa della concorrenza? Non lo so. Questo aspetta le forze pubbliche, diciamo carabinieri e polizia che sono intervalli anche stanotte e cercare di capire qualcosa di meglio. Perché davvero io non so da che parte guardare. Lei dice un'attività che non fa del male a nessuno, ragazze, serate piacevoli, qualche drink. Certo. Compagnia, divertire, consumazioni con le ragazze, basta. Non c'è nessun altro tipo di attività qua. Ha ricevuto dalla solidarietà? Sì, qualcuno sì. Però diciamo che ancora presto, poche ore sono trascorse, quindi vediamo un po'. Nel luglio 2014, il primo avvertimento, la sala principale del nightclub di Sia Maggiore viene data alle fiamme, danni per oltre 80.000 euro e attività minata alle fondamenta. Adesso la nuova mazzata, come dimostrano queste immagini, però Antonio Sideri vuole andare avanti e in testa un solo obiettivo, riaprire il suo night, la sua attività zeppa di ragazze in grado di garantire serate piacevoli e alla clientela. Si riparte più forte di prima. È stata una mazzata, i danni sono davvero ingenti. Sì, sì. È dura, è dura, però non vado via da qua. Intanto anche le indagini sembrano puntare su un'unica direzione e guardano al mondo della notte, alla forte concorrenza. Sia Maggiore, insomma, c'entra poco, è un paese tranquillissimo, il coro ricorrente. Fino adesso sia Maggiore, proprio di reati gravi, non è mai scesso niente. Possiamo dire che un'isola felice sia Maggiore. Felice, sono non felice. Night Club in provincia di Oristano, mondo complesso e articolato, e gli oristanesi, beh, sanno e spesso fanno finta di niente. 14 locali, o meglio Night Club, a mo' di record singolare. L'Interlando oristanese se ne infischia di Cagliari e di una realtà assai più vasta. Il mondo della notte è qui, perlomeno quello fatto di ragazze in vena di drink o abbonate al palo della lap dance. Il movente dell'attentato di Sia Maggiore pare vada ricercato in questo ambiente, sì, dove la concorrenza è spietata e dove, a sentire i soliti ben informati, le regole spesso non vengono rispettate. Pochi locali a norma, parrebbe per lo più bollati come circoli, quindi senza fini di lucro, in realtà, se ben avviati, capaci di generare affari consistenti. E gli oristanesi? Beh, molti sanno e fanno finta di niente e sono al corrente di ciò che avviene nei cosiddetti privè. Sì, ce n'è abbastanza per il centro di Oristano. Cosa succede in questi posti? Non siamo mai andati per adesso, però andremo, perché ci ha detto che è un bel locale, il ragazzo. Qualcuno dice che si va un po' oltre, secondo lei è vero? Non solo intrattenimento o semplice compagnia con le ragazze, è così? Guardi, quando andremo, la richiamiamo e le daremo più informazioni. Ce ne sono una decina in questo territorio, secondo lei perché? Magari perché è più raggiungibile da tutti, quindi, vengono tutti qua. La gente si diverte? Direi abbastanza. Da venerdì il mercatino rionale di Oristano torna anche in via Arborea. I residenti però sono sul piede di guerra. Le bancarelle, infatti, ostruiranno parcheggi per disabili, passi carrai e ingressi di attività commerciali. I dettagli dalla collega Marianna Guarna. Venerdì sarà il banco di prova, il mercatino rionale del Sacro Cuore. Oristano torna alle origini, si divide tra via Aristana e via Arborea. 70 ambulanti, 25 per il settore alimentare e 45 per il settore non alimentare e fieristico, opportunamente alternati per favorire le vendite. L'esordio però rischia di trasformarsi in un vero flop, causa proteste dei residenti. Si stava parlando insieme ai nostri vicini, alle persone che hanno necessità di avere l'uscita dei mezzi, di lasciare le macchine parcheggiate. L'unico modo che si può fare è questo. Vedremo se in questo modo si può essere ascoltati. In via Arborea il manumore è diffuso da quando gli operai del Comune hanno delimitato sull'asfalto gli spazi degli stalli senza tener conto della segnaletica preesistente, passi carrai e soprattutto parcheggi per disabili. Numerose le lamente le giunte fino a Palazzo Camposcolonna, ma dal Comune... Dal Comune nessuna risposta. Abbiamo più volte provato a contattare gli uffici predisposti a questa situazione, però mai nessuna risposta. Io personalmente sono andato stesso al Comune, però non sono stato ricevuto dalla persona predisposta a questo stesso lato. Il Comune dal canto suo invita i cittadini a segnalare qualsiasi disagio tramite apposito indirizzo mail, ma a quanto pare non è poi così semplice. Ho provato stamattina a mandare una mail tramite questo comunicato che è stato diramato, con questa mail fasulla perché non risulta veritiera. Ho provato in questo momento a mandarla alla PEC e sono in attesa di risposta. Venerdì ci sarà il mercatino e vedremo un po' quello che ne viene fuori. Adesso sentiamo la replica del primo cittadino, Guido Tendas, che si dice disponibile a valutare eventuali correzioni. Il sindaco è il sindaco di tutta la città, dei residenti di via Arborea e via Ristana, però è anche il sindaco che deve consentire che quel mercatino che è stato sempre lì continui ad essere su quelle strade. Allora è possibile, non mi meraviglio, che da questa modifica che noi abbiamo fatto ci possano essere dei disagi. Io credo che è il nostro dovere, a cominciare da venerdì, che sarà un po' una sperimentazione, capire quali sono i disagi maggiori. L'invito del sindaco è quello di far presente o direttamente come qualcuno ha fatto, ma preferirei che la cosa venisse fatta per iscritto perché deve rimanere traccia dei disagi che questo mercato eventualmente crea. Possono mandarlo all'indirizzo del dottor Cadoni, che abbiamo indicato nel comunicato stampa, ma non c'è problema se mandano anche all'indirizzo del sindaco, segreteria.sindaco, chiocciolacomune.ristano.it. Quindi prenderemo in esame tutte le situazioni e assicuro il massimo impegno da parte di tutti per ridurre al minimo i disagi che inevitabilmente un mercato su strada crea. Faremo in modo di riorganizzare quelle situazioni particolari sulla base di esigenze a cui non si può assolutamente dire di no, perché una cosa è chiedere pazienza ai residenti per la mattina del martedì e del venerdì, altro è impedire delle cose che non possono essere impedite viste le motivazioni di chi le propone, motivi di salute o addirittura di altre professioni che possono addirittura entrare in contrasto. Noi non abbiamo nessun interesse a favorire alcuni a discapito di altri. L'assessore regionale degli enti locali Cristiano Enrio, in visita all'Istituto Tecnico Mossa di Oristano, ha anticipato alcuni punti fondamentali della legge sul riordino del territorio. Tra le novità anche la cosiddetta carta d'uso delle terre. Sentiamo un po'. La giunta regionale ne discuterà nei prossimi giorni. Stiamo parlando della nuova legge di riordino del territorio. Il testo sulla materia urbanistica, sottolineato Cristiano Enrio, riuscirà a dare risposte più adeguate a chi da tempo chiede semplificazione e maggiore certezza. Tra le proposte è anche la costituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente dove le parti interessate possano dialogare in maniera proficua e continuativa. Spesso mondo imprenditoriale e politico sembrano parlare linguaggi diversi. Occorre, ha sottolineato l'assessore agli enti locali Enrio, riportare su un piano corretto e un rapporto tra questi due mondi. La parola d'ordine sembra essere collaborazione. Dobbiamo assicurare, ha detto ancora l'esponente dell'esecutivo Pigliaro, il massimo beneficio alla collettività e allo stesso tempo favorire un processo virtuoso per migliorare la capacità di risposta della pubblica amministrazione in termini di efficienza. Prima di tutto però bisogna attuare una buona gestione dell'agro, ossia valutare l'effettiva vocazione dei suoli e la loro capacità di generare produzione agricole, zootecniche e di qualità. Il terreno deve essere considerato come elemento primario per la conservazione del paesaggio, oltre che treno produttivo della nostra economia. Per questo l'assessorato degli enti locali ha pensato alla cosiddetta carta d'uso delle terre di tutta la Sardegna. Al momento l'attività di sperimentazione è già partita in alcune zone dell'isola, col tempo verrà estesa a tutto il territorio regionale. La parodia della comunione fatta qualche giorno fa all'ingotto di Torino da Beppe Grillo ha scatenato critiche e polemiche. A prendere posizione è anche l'arcivescovo di Oristano. Sentiamo Monsignor Ignazio Sanna. È un gesto che procura indignazione. Io ho manifestato la mia indignazione, penso che di fronte a questo gesto blasfemo abbia tutta la libertà di esprimere la mia indignazione. Uno è libero di condividerla, va bene. È libero di non condividerla, va bene lo stesso. Però io non posso non sentirmi offeso in questo momento da un gesto blasfemo. La sapienza popolare dice scherza quei fanti e lascia stare i santi. Ora non si può scherzare in questa maniera. Ricordiamo che cosa è successo. E ha preso, insomma, dei cibi leofilizzati, mi pare, e li ha consegnati e prendete e mangiate questo il mio corpo. Questo non si dice, questo è assurdo, che tu sei un Dio. Vuoi sostituirti addirittura in questa parodia alla persona di Gesù. E questo è troppo. A questo punto puoi anche, non lo so, scherzare su altre cose. Però, ripeto, non offendere i sentimenti religiosi della gente. Sicuramente ci sono milioni di persone che si sono sentite offese e non si può liberamente giocare coi sentimenti e sui sentimenti delle persone. Non entro in altri campi che non sono mio compito. Però posso e devo esprimere la mia indignazione perché queste cose io non le condivido e non le posso assolutamente condividere. Tutto qui, ecco, non ce l'ho contro nessuno. Lei ha precisato, anche ora l'ha fatto, la mia non è una presa di posizione politica. Parlo da uomo di chiesa, naturalmente. Ma certo, io mi sono sentito offeso nei miei sentimenti religiosi. Non do nessun giudizio assolutamente perché non è compito mio, non è campo mio. Però, in quanto vescovo, che si cura del bene spirituale delle persone, non possono intervenire per dire questo tipo di scherzi non è assolutamente ben visto, meno se ne fanno, anzi, non si fanno affatto e siamo tutti quanti protetti e difesi nei nostri sentimenti. Per lo sport ci occupiamo di tennis. Da giovedì in scena i big al trofeo città di Oristano, quarta tappa del circuito open. Siamo molto contenti. Il livello già dalla prima settimana è alto. Da giovedì, invece, arriveremo al top. Sì, sì, assolutamente sì. Abbiamo avuto la conferma oggi di due nomi illustri del tennis sardo che sono Manuel Mazzella e Antonio Zucca che faranno parte del cosiddetto main draw del tabellone di seconda categoria. Siamo molto orgogliosi perché il livello del torneo è salito parecchio e anche con altri seconda categoria sarde siamo molto contenti. Favoreti assolutamente è Manuel Mazzella e Antonio Zucca. Che cosa vi aspettate dal pubblico? Ma già domenica scorsa c'è stato un grande pubblico sono venuti a vedere le partite, a seguire i nostri giocatori. Siamo veramente molto contenti perché Oristano sta dimostrando grande passione per questo sport e quello di cui ne abbiamo bisogno. Sabato semifinali e finale a Corpata? Sì, abbiamo fatto questa scelta per i vari impegni dei giocatori perché ovviamente è impegnato nei campionati a squadra la domenica e nei tornei internazionali a Pula. Quindi abbiamo deciso di fare la semifinale ora di pranzo e la finale tarda serata. Spettacolo garantito insomma. È tutto, grazie per la cortesia attenzione e arrivederci. Grazie a tutti.